problemi ricezione per me inersa deve correre parrocchiale la salva ortman la manda di là ci sarà una free ball per conegliano silla gennari all'indietro dai guono in parallela sopra il muro la parata di parrocchiale sono contentissima di aver di aver rinnovato per quest'anno e anche l'anno dopo dopo un anno particolari come questo c'è la voglia di rimettersi in campo di rimettersi in gioco e comunque dimostrare il valore della squadra e di lottare per Monza per la Saugella per la società e sotto un punto di vista personale è importante perché comunque sì come 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 si sa ci sono le olimpiadi che sono comunque un sogno e si lavora per comunque cercare di arrivarci personalmente dal punto di vista tecnico nella prossima stagione vorrei puntare ad essere il più continua possibile non solamente in un in un campo che riguarda il mio ruolo ma essere comunque un punto di riferimento di sicurezza per le mie compagne in tutti i fondamentali quindi diciamo che è un anno dove vorrei mettermi alla prova e sono sicura che con il nuovo coach e con tutto lo staff e le ragazze tutte quante riusciremo a fare un bel lavoro di crescita personale e di squadra vorrei ringraziare tantissimo le mie compagne quelle dell'anno scorso quelle che non ci sono non ci saranno e quelle che rimangono perché abbiamo passato un anno un anno bello intenso però siamo state proprio proprio bene insieme e volevo ringraziare ovviamente la società che non ci ha mai fatto mancare niente tutto lo staff e i tifosi che spero di rivedere presto al palazzetto